Shalom 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 Prima di iniziare questa lezione vorrei dare il lodi adorazioni e tutto il dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai e vorrei dare i miei doppi onori ai apostoli e anziani della Great Mewstone che mi hanno insegnato questa verità questa lezione sarà molto breve e il titolo di questa lezione sarà Dio Yahawa non è tutto amore e vorrei iniziare leggendovi dal libro di Salmi 47 dal versetto 2 che si trova qui proprio e si legge Perciò che il Signore Yahawa è l'altissimo, il tremendo, gran re sopra tutta la terra se notate bene qui vedete il tremendo, tremendo e questo si trova in altri versi delle scritture che dice che il Padre Yahawa è tremendo ok, se andiamo a vedere il significato di questa parola, tremendo, qui l'ho scritto su Google e vedete, dice che inculte terrore, uno che inculte terrore, terrore altri significati, spaventoso, spaventoso da volte riferito a persone per esprimere l'eccesso non sempre negativo di alcune qualità distintive ok, tenete qua uno che inculte terrore il Padre è tremendo il Padre non è tutto amore come la Chiesa ci ha fatto capire e credere tutti questi anni qua il Padre è tremendo e vado avanti a leggervi un altro versetto dal libro di Esodo dal libro di Esodo capitolo 15 e leggo dal versetto 3 qui e si legge il Signore Yahawa è un gran guerriero il suo nome è il Signore Yahawa ok egli ha traboccati in mari cari di Faraone e il suo esercito e la scelta dei suoi capitani è stata sommersa nel Mar Rosso gli abissi li hanno coperto infatti mi fermo qui che dice il Signore Yahawa è un gran guerriero qui a posto del Signore il suo nome è Yahawa se guardate nel manoscritto in ebraico antico lì vedrete che c'è scritto il suo nome vero che si traduce Yahawa poi Yahawa volendo farò un'altra lezione sul suo nome come come degli apostoli e anziani della Great Mewstone sono stati ispirati dallo Spirito Santo che nella parola ebraica antica sarebbe la Ruka Kodash ok li ha ispirato ad avere il nome del padre comunque quella è tutta un'altra lezione qui vediamo di nuovo il Signore Yahawa è un gran guerriero non è tutto amore come ci fanno credere per l'ennesima volta vado avanti a leggervi dal libro di Deutronomo del Trono Mio capito 32 versetto 39 no 29 no 39 scusatemi perdonatemi ok e leggo da qua vedete ora che io io sono adesso e che non v'è alcun Dio mecco io fu morire e rimetto in vita io ferisco e guarisco e non v'è nemmeno che possa liberare dalla mia mano perciò io levo la mano al cielo e dico come io vivo in eterno se io aguzzo la mia folgorante spada e prendo in mano il giudizio io farò la vendetta sopra i miei nemici e farò la retribuzione a quelli che mi odiano qui vedete per l'ennesima volta che il padre non è tutto amore come ci hanno sempre fatto credere la chiesa il padre è spaventoso davvero è davvero spaventoso il padre colui che ha creato la terra che ha creato tutte le nazioni che ha creato ognuno dentro che ha creato l'intelligenza che ha dato ai filuoli dell'uomini che ha creato il suo popolo speciale che è Israele e avete visto nelle lezioni precedenti che abbiamo tirato fuori dalla forza di Yehovah Hashem Yehovah Shai abbiamo tirato fuori le prove che dicono che il suo popolo preferito il suo popolo scelto il popolo a chi le scritture la Bibbia è stata scritta è Israele siete riusciti a vederlo e questo questo padre Yehovah non è tutto diciamo calmo tranquillo sa fare solamente bene non sa fare male non è non è quello infatti è questo che la chiesa ci fa credere non si preoccupare padre ama tutti e capisce i tuoi errori ma non è proprio così facciamoci attenzione leggendo questo andiamo a leggere dal libro di Amo Amos ok capitolo 3 leggiamo dal versetto 6 qui vedete e leggo la tromba suonerà ela nella città senza che il popolo accora tutto spaventato sarà vi alcun male nella città che il Signore non l'abbia fatto avete visto avete visto qui c'è scritto sarà vi alcun male nella città ok che il Signore Yehovah non l'abbia fatto continuo leggendo perciò che il Signore il Dio Yehovah non fa nulla che Egli non abbia rivelato i Suoi segreti ai profeti i Suoi servitori i Suoi profeti sono i figli di Israele i uomini che seguono le sue parole che osservano i Suoi comandamenti e sono i uomini della Great Mewstone che hanno portato la verità in luce sono coloro che mi hanno insegnato tutte queste cose che conosco oggi perciò qui è il punto sarà vi alcun male nella città che il Signore non l'abbia fatto perciò qualsiasi cosa che accade bene male il Padre Yahweh ha dato il consenso ricordatevi questo se guardate la lezione precedente no due lezioni precedenti quello che ho fatto con il mio fratello vedrete che abbiamo tirato fuori i punti dal libro di Giove dove il Padre Yahweh ha invitato tutti gli angeli e Satana è anche un suo angelo e là se leggete a più profondità pregando per lo spirito di conoscenza e lo spirito di discernimento dal Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh vi farà capire bene quel versetto e vedete che il Padre con la sua mano destra governa il bene e con la sua mano sinistra governa il male governa tutto non è una guerra tra i bene e i male come la Chiesa ci ha fatto credere ha creato delle nazioni ok e la guerra è tra Esau e Giacobbe i figli di Esau e i figli di Giacobbe e quelli scelti dal Padre sono i figli di Giacobbe che sono che sono Israele perciò ricordatevi sempre il Padre non è tutto amore fai bene e fai male e andiamo avanti a leggere sempre qui dal libro di Amos capitolo 4 e versetto 10 che dice io ho mandato fra voi la pestilenza nella via di Egitto io ho ucciso con spada i vostri giovani oltre alla presa dei vostri cavali e ho fatto salire il pulso dei vostri eserciti fino alle vostre nari eppure voi non vi siete convertiti a me dice il Signore Yahweh qui fa vedere anche l'esempio ha fatto tutte queste cose nonostante tutto quello che fa la gente non lo teme non lo teme la gente va avanti a cercare il suo bisogno temere il padre Yahweh che il padre Yahweh è tremendo come abbiamo visto prima andiamo a leggere dal libro di Giovanni ecco libro Evangelo di Giovanni capitolo 9 versetto 31 ok qui leggiamo or noi sappiamo che il Dio Yahweh non esaudisce il peccatore ma se alcuno è più verso il Dio Yahweh e fa la sua volontà quello esaudisce egli non prendiamoci in giro cari fratelli di Israele non prendiamoci in giro il padre non esaudisce i peccatori esaudisce solamente coloro che fanno la sua volontà perciò dovete negare la dottrina falsa delle chiese tutte le chiese qualsiasi religione che dice fai il tuo meglio fai questo non ti preoccupare il padre capisce la 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 peccato non peccato qua non ti dovete smettere di bere dal bicchiere della Babilonia sono tutte filosofie mondane e ricordatevi che le chiese sono pagate le chiese per aprirsi devono farsi la licenza che viene dal Vaticano che si chiama 501 tra parentesi c3 per insegnarvi questo libro che è il libro dato ai figli di Israele per insegnarvelo come religione e non storia vera facciamoci attenzione il padre non esaudisce i peccatori ma esaudisce coloro che fanno la sua volontà ok e andiamo a leggere dal libro sempre del primo del primo Giovanni ok epistola primo Giovanni 3 e 4 spero che è questo ok che cosa è peccato chiediamoci di nuovo che cosa è peccato visto che abbiamo parlato prima del peccato che il padre non esaudisce i peccatori che cosa è peccato se ci chiediamo qui in versetto 4 dice chiunque chiunque fa il peccato fa ancora la trasgressione della legge ok qual è la legge la legge che ha dato al Mosè i comandamenti che non sono solamente dieci se si legge tutta la Bibbia si vede che sono 613 comandamenti ok è vero che non possiamo mettere in pratica tutto al giorno d'oggi alla perfezione perché siamo in schiavitù noi figli di Israele per esempio il Shabbat il sabato che non è proprio come crede il mondo che è il giorno sabato che tutto questo è un'altra lezione più profonda non lo possiamo osservare sempre perché siamo in schiavitù tanti devono lavorare ce ne sono diverse diverse diversi comandamenti che sono davvero difficili o quasi impossibili da mettere tutta in pratica al giorno d'oggi quindi non sto dicendo che dobbiamo per forza osservare tutti i comandamenti anzi c'è una scrittura che dice non veremo salvati dai comandamenti non è colui che osserva tutti i comandamenti ma dobbiamo fare il nostro meglio di